Non si divertono invece i giapponesi della prefettura di Niigata e non perché manchino di spirito, ma perché il freddo è tale da far gelare il sorriso sulle labbra a chiunque. In alcune zone la neve raggiunge i 5 metri di altezza. Non è facile in queste condizioni ritrovare la propria casa quando si torna dal lavoro. E spesso, quando si è riusciti a trovarla, ci si accorge che per entrare non si passa più dal portone, ma dalla soffitta. Per attraversare le strade i pedoni si servono dei sottopassaggi. A volte un cartello vi avverte che il negozio che cercate è sotto quel cumulo a sinistra. Le squadre di spalatori lavorano dall'alba al tramonto. Anche i bonzi davanti ai templi si rimbucano le maniche e spalano come tutti gli altri. Nelle zone isolate i viveri e i medicinali arrivano dal cielo. Vengono giù con il paracadute perché non li manda la provvidenza, ma il patrio governo. Il problema più difficile da risolvere non è però il vettovagliamento. È il luogo in cui scaricare la neve. Ce n'è tanta che non si sa più dove metterla. Tutto il paese ne è pieno. Ogni giorno dalle varie stazioni partono centinaia di vagoni con il loro carico bianco. Ma dove vanno? Dove corrono? È semplice. La scaricano in mare. La scaricano con le pale. La scaricano con le mani. Avanti e indietro. Avanti e indietro. Come le formiche. C'è un tappuotio. Quasi il mal Ice. È unрашonario al rast occhio.